Ciao! Oggi volevo parlarvi di un film che è uscito settimana scorsa e che penso che si stava aspettando un po' come l'ascesa di qualsiasi dio in terra ed è Furiosa. Furiosa? Allora comincio col dire, allora, non credo che ci siano spoiler, cioè perlomeno, io non posso, cioè non ho, secondo me non vedo cose che si possano dire oppure no, anche perché comunque bene o male la storia su internet c'è, quindi bene o male su internet è presente e bene o male sappiamo com'è la storia di Furiosa, com'è la storia di Furiosa e come si è evoluta, eccetera. Quindi bene o male, non so quale spoiler potrei farvi, quindi bene o male è senza spoiler, nel senso è una recensione normalista, è un'opinione a caldo che io, diciamo, vi do comunque proprio libera, senza spoiler, senza spoiler con, senza spoiler, libera, diciamo, perché comunque è una storia che, diciamo, la conosciamo tutti, bene o male, no? Quindi, cioè, perlomeno, o l'abbiamo letta su internet o l'abbiamo letta anche nel secondo e primo di Mad Max Fury Road, che lei comunque era rappresentata lì anche da Charlize Theron, ma comunque viene detto la sua storia e comunque viene raccontata un po', viene raccontata e la fa intendere. Allora, questo film è sempre girato da George Miller, che bene o male in questo film, però, è bravo, diciamo, ha una regia veramente, veramente fatta bene, diciamo che migliore dell'altro può essere, sì, diciamo che migliore degli altri, diciamo, sicuramente migliori della prima trilogia, quella come Gibson, quella come Gibson, sicuramente la regia è molto meglio di quella. Meglio di Mad Max Fury Road, diciamo che può essere un filino meglio, un filino meglio, quindi è molto bravo, la fotografia è allucinante, compreso il sonoro, cioè, raga, ha un sonoro che fa paura, cioè, penso che comunque in Dune avevo provato un sonoro del genere, bene o male sono lì. Dopodiché anche degli effetti visivi allucinanti, quindi bene o male per la parte tecnica è tutto eccezionale, tutto eccezionale. Gli attori, sì, Anya Taylor-Joy, Chris Enzo, sono i principali, diciamo, perché poi comunque ci sono gli altri, ma diciamo che sono di seconda battuta, cioè, sono di personaggi secondari, tranne comunque la bambina, quando lei è furiosa bambina, che è interpretata dall'attrice Alia Brawl, credo, Alia Brawl, che è bravissima pure lei, che secondo me è bravissima. Poi è molto somigliante e diviso a Anya Taylor-Joy, è molto brava pure lei. Anya Taylor-Joy è per me bravissima, cioè, lei è come sempre brava, da The Witch fino a The Witch per me è uno dei miei film preferiti, sia per l'argomento, che poi comunque, man mano, magari, quando ci sono vari argomenti, vari, come dire, periodi, come tipo Halloween, quelle cose lì, magari vi dirò un po' di più, e sia per l'argomento che comunque, perché anche lei è bravissima, anche Robert Eggers è sensazionale in quel film lì, tutto è bello in quel film lì, tutto è bello in quel film lì, e The Witch poi ha fatto anche Last Night in Soho, è bravissimo con Edgar Wright, poi La Regine degli Scacchi a me è piaciuta tantissimo come serie, ed è molto, è veramente molto brava in tutti i ruoli, comunque tu la metti, anche The Northman, The Northman, esatto, quel film, ah, il secondo film che ha fatto con Robert Eggers, quello che è un simile re leone, che la storia assomiglia dove c'è Ethan Hawke, l'altro attore, magari non mi ricordo, cioè comunque in The Northman, comunque conoscete un po' la storia delle Valkyrie, i Nordici, i Dugodino, quelle cose lì, se non vi ricordate, ed è molto brava, diciamo che lei è sempre stata molto brava, e in questo film lei per il 90% non parla, e ha, come dire, ha delle pochissime, pochissimi dialoghi verso la fine, perché chiaramente necessita, perché è la necessità della, come dire, del dialogo per forza, e però sa comunicarti molto bene quello che sta provando, la sensazione che comunque sta provando, la situazione in cui lei è, e empatizzi molto, secondo me, con la sua, con la sua, con la sua, con la sua situazione, diciamo che tu la vedi, e secondo me, cioè, secondo me, per quello che gli succede, perché sappiamo che lei, la bambina, subisce, viene rapita, eccetera, per quello che gli succede, tu comunque empatizzi, secondo me, entri molto in sintonia con lei, lei è bravissima a comunicartelo, sia anche con uno sguardo, eh, sia con lo sguardo, che con un gesto, eccetera. Poi il finale, vabbè, chiaramente il finale lì, il finale lì è, chiaramente, poi, il finale è, diciamo, è dialogato, chiaramente, però è, beh, quindi, è chiaro che c'è una ripresa anche dal basso, che non so se l'avete vista dal basso di Full Delay, con il braccio che ha meccanico, ed è molto bella. Chris Hemsworth, la Chris Hemsworth, raga, allora, lui è molto bravo, è bravo, e lo si sa, non è un fenomeno che, non so, non è al pacino, però è un, è bravo, però secondo me, anche questo personaggio, anche se, ehm, anche se, comunque interpreta, ehm, il villain, interpreta il villain, deve, secondo me, come ha fatto, comunque, chiaramente, Robert Downey Jr., ehm, deve uscire dal, ehm, dal suo personaggio, che è quello di Thor, secondo me. Robert Downey Jr., Robert Downey Jr., scusate, c'è riuscito, comunque, con Oppenheimer, con, facendo, con Strauss, quel personaggio, con Louis Strauss, Louis, Louis Strauss, e bene o male c'è riuscito, perché bene o male non riusciva, chiaramente, raga, quando tu entri in un personaggio, per gli attori, chiaramente è difficile, quando tu fai, per certi anni, un tipo di personaggio, uscirne. E, roba, è Chris Hemsworth, chiaramente, non è che non dico che, no, l'unico personaggio che ha fatto, che ne è uscito completamente, è Rush, è, eh, Rush, è il personaggio di, ehm, James Hunt, che ha fatto la storia di Nicky Loud, è, lui, perché chiaramente, raga, era, non era un personaggio di fantascienza, era un, una persona, eh, reale, eh, eh, quindi devo interpretare, qui chiaramente è un sci-fi, semi-fantascienza, è un ambiente post-apocalittico, quindi chiaramente siamo sempre quasi lì, ecco, però comunque è sempre molto bravo e, secondo me, deve leggermente ancora un po' staccarsi, perché anche, hm, anche se fa il villain è molto bravo, però c'è quella cosa sempre, quell'ironia, ecco, quell'ironia che ha Thor, che se la porta dietro, che se la porta dietro, diciamo, eh, sì, se sentite parlare, non fateci caso, comunque, non fateci caso, e, niente, ed è molto bravo anche lui come, allora, l'unica pecca, tra virgolette, che può avere questo film è la durata per me, ora, a me è piaciuto, mi è piaciuto molto, però, raga, poteva durare mezz'ora meno, ve lo dico, eh, io, eh, ho apprezzato, eh, allora, ci sono, allora, c'è stato, per esempio, uno di quei combattimenti su strada, che penso sia il secondo, non so se sono tre o due, mi sembra fossero tre, vabbè, comunque quello è nel mezzo, eh, dove lei si scopre che è una ragazza, diciamo, come l'attore con cui poi gli insegna tutto il resto, il ragazzo con cui gli insegna è, è una cosa interminabile, cioè, per me, poi non so per altri, però per me, anche, anche perché quello successivo di film, del Mad Max Fugie Road, ah, durava due ore, raga, cioè, non so se ve ne siete accorti, questo dura due ore e mezza, quasi due ore e quaranta, no, cioè, secondo me, potevano tagliare di mezzo, poi, magari, cioè, tagliare di mezz'ora, non magari farlo di fretta, magari, che so, farlo di due ore e cinque minuti, no, ma mezz'ora, raga, per me è stato troppo, cioè, per me, hanno allungato una coal delle cose, ad esempio, scene di, che so, di confusione, mettiamo, non di confusione, e scene di confusione o scene di, che ne so, di guerra, facciamo, per me è troppo, cioè, le hanno, e, ne hanno allungato troppo, quindi, secondo me, per me, venticinque minuti meno ci stava, to, potevano farlo di due ore e cinque, to, massimo due ore e dieci, questo, però, raga, però comunque per il resto è molto, è stato, per me è piaciuto tanto. I temi, temi trattati, come io vi dico sempre, che sono la vendetta, chiaramente perché lei è in ricerca di vendetta per la sua famiglia, per sua madre e per se stessa, che comunque gli ha, ha avuto un'infanzia che lei non voleva, chiaramente, perché dopo è stata, come dire, venduta a un uomo della guerra, un signore, l'ha comprata, un signore della guerra e l'ha venduta, ed è stata come, come moglie e a Immortan Joe. Immortan Joe, sappiamo che Immortan Joe era questo signore della guerra, che era circondato da queste donne stupende, bellissime, che dovevano dare figli maschi, per la successione. Quindi, meglio male, c'è il tema dell'archetipo della donna forte, del patriarcato, quello allucinante, patriarcato, e del femminismo, eccetera. Cioè, è molto pre-ripreso questa cosa, quindi secondo me è molto preso questa cosa, perché comunque lei risulta la donna burbera, si può dire burbera, che prende il sopravvento sul potere dell'uomo, sul comando, perché lei comunque arriva alla fine a comandare lei, la blindo cisterna, perché chiaramente comunque è salita di grado, perché Immortan Joe accetta che comunque lei abbia questo ruolo, perché, allora, su internet dice che, su internet, non so se lo dice nel secondo, dice che lui la rifiuta perché era infertile, non era fertile. Però, qui non è stato detto, qui lei alla fine, come dire, alla fine finisce come inizia quello precedente, il Mad Max Fury Road, quindi lei prende le mogli e le porta con sé, le nasconde nella blindo cisterna e cerca di andare verso Bullet Farm per fare rifornimenti. quindi, ecco, questa è la cosa, questo penso che l'abbiate visto tutti, perché il secondo ve lo, il primo, quello precedente, che poi è il sequel, ve lo ricordate tutti, no? E niente, poi c'è il tema della ribellione, chiaramente ripreso, perché lei ha una sorta di ribellione interna, sia per la rivincita sulla redenzione di se stessa, anche perché comunque lei commette cose di cui non va fiera, chiaramente fa fuori della gente, che comunque però è una cosa che lei comunque deve fare. Bene, allora io mi fermo qui, diciamo che questo bene o male è a caldo quello che vi posso dire, e se avete qualcosa da dirmi, come volete dire, ditemelo qua sotto, sempre con calma, anche se sempre con calma, e niente, io vi saluto e ciao!